si le fa spostare sul campo si può anche dire ritorno a pivò batteria 500 watt ora solo eco ciao ragazzi come promesso facciamo vedere un paio di esercizi che si dovrebbero fare prima della discesa quindi per le mani e le braccia e le caviglie tutto il tronco il core cos'è il core? il core è tutta la fascia che fa dalla zona lombare fino all'addome quindi è lo stabilizzatore principale del nostro corpo che serve tantissimo in tutti i movimenti ma specialmente i bici in questa disciplina il primo esercizio che facciamo è un'isometria primitive in squat completo andando a lavorare sulla mobilità delle anche e delle caviglie dovete posizionarvi con i piedi poco più larghi dell'apertura delle spalle seguendo la curva fisiologica del ginocchio con la punta del piede quindi verso l'esterno vado il squat completo congiungo le mani spingo le ginocchia verso l'esterno con i gomiti e faccio dei movimenti molto delicati in questa maniera quindi anche giù e caviglie mobili tenendo il piede più attaccato per terra possibile questo movimento che possiamo fare per due tre volte in serie da 40 secondi e fidatevi che vi aiuterà tanto a sciogliere il muscolo a sentirvi più rilassati e più attivi il secondo esercizio che possiamo fare sono i jumping jack alternati un esercizio molto basilare ma sicuramente un esercizio che riesce a scaldare bene spalle braccia core tutto quanto ci prenderanno pescemi chiaramente perché adesso vediamo il movimento ma è anche un movimento di coordinazione quindi perfetto allora da questa posizione qui apro le gambe e chiudo le braccia ah quelli della scuola i jumping jack quelli della scuola quindi questo alternati in questa maniera in maniera tale che andiamo a lavorare anche sulla coordinazione quindi una volta alto una volta avanti una volta alto e una volta avanti controllando il più possibile la respirazione e contraendo in ogni movimento l'addome anche questo qui possiamo ripeterlo in tre serie da 30 ripetizioni totali con 20 secondi di recupero bella bella ragazzi per oggi è tutto ma vediamo se funziona poi wow seghetto ha perso la trovo ha perso la trovo Grazie a tutti. Grazie a tutti.